Musica Bruta! brutta perché se non c'era mai di partecipare anche gli americani e i francesi e gli inglesi ma dopo c'era una cadena che non finiva allora era la terza guerra mondiale e stessi da qui tutti che pareva che fosse un angelo perché ogni tanto ti fa vedere perché veniva anche in Italia insieme con Berlusconi perché l'hai visto che andava a dormire anche là ma che roba e ne veniva qua finì perché combattia ancora e anche mi ha visto parte di visione un mucchio dei carri armati riusci abbandonati Grazie Grazie Grazie